Ma in questo viaggio che tu hai fatto e che in molti hanno fatto dentro se stessi, cos'è che Stefano Bettarini ha capito, che prima magari non l'aveva capito? No, io credo che nella vita, parlo di quella personale o comunque di quella che svolgi al di fuori di lì, anche se tu entri come un personaggio pubblico, però non tutti sono disposti a far vedere la parte anche quella più intima o quella più debole che ognuno di noi ha. Io non credevo potesse essere possibile che io riuscissi a mostrare quella parte lì, perché comunque dentro di me pensavo qualcosa di te deve rimanere nascosto, devi proteggerla. O comunque pensi di essere forte, duro, con armatura che non trapassa nulla. Invece lì mi sono trovato a vivere, a provare le emozioni così come si è visto, come ognuno di noi le ha del resto. Però magari su una persona che la vedi tutta di un pezzo, come se non fosse possibile riuscire a provare determinate sensazioni, è più difficile e non credi che avvenga. Invece è avvenuto con tutta naturalezza e spontaneità. È uscito uno Stefano migliore? No, è uscito lo Stefano che sono. Quello che sei davvero. Io sono realmente così, con i miei pregi e i miei difetti. Non sei cambiato, ma sei riuscito a far uscire lo Stefano che prima era tra le mura domestiche. Sono riuscito a far conoscere la parte forse migliore di me? Non lo so. Beh, ci sono state parti belle, perché sei anche simpatico e divertente, però ti incavoli anche pesantemente. Ovvio, ovvio, mi incavolo perché non ho mai sopportato la poca coerenza delle persone e anche quando vogliono far credere di essere diverse da quello che poi realmente dimostrano. E quindi io su questa cosa mi irrito parecchio. Grazie a tutti.